Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale 12 denunce per furto aggravato a Fanno, la stretta del commissariato di polizia sui reati contro il patrimonio A San Costanzo c'è una madonnina che non piace, il proprietario la sposta all'interno della sua proprietà Digestore anaerobico, tanta gente all'incontro a bell'occhio organizzato dalla Lega e questa sera replica dell'Aget a Fanno L'11 novembre al centro antidiabetico di Fanno, controlli gratuiti per la giornata mondiale del diabete Buonasera cari telespettatori, benvenuti al Tg di Fanno TV, occhio alla notizia L'avete sentito nei titoli, stretta e lotta senza quartiere delle forze dell'ordine contro i reati La polizia di Stato, gli uomini del commissariato di Fanno hanno denunciato 12 persone che hanno commesso Vari furti, vari reati in altre tante situazioni e sono stati tutti denunciati per furto aggravato e ricettazione Gli agenti del commissariato di polizia di Fanno hanno effettuato nell'ultimo periodo diversi servizi nella città Mirati al contrasto dei reati contro il patrimonio Gli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti e in collaborazione con la polizia locale Hanno effettuato numerosi posti di controllo nelle principali arterie cittadine Con lo scopo di prevenire la piaga dei furti in abitazione e dai danni degli esercizi commerciali L'attività svolta nel suo complesso ha consentito di individuare e denunciare alle autorità giudiziarie 12 soggetti per i reati di furto aggravato e ricettazione In particolare nel corso delle operazioni sono state rintracciate due donne di nazionalità italiana Che avevano effettuato un furto all'interno di una farmacia del centro storico Asportando confezioni contenenti creme per un valore di oltre 600 euro Poi recuperate dai poliziotti I controlli hanno anche portato inoltre a rintracciare e fermare un cittadino italiano Sorpreso a bordo di un autoveicolo rubato a Fanno pochi giorni prima Mentre uno straniero proveniente dall'est Europa è stato trovato in possesso di un cellulare rubato Particolare attenzione è stata rivolta presso la principale area commerciale fanese in località Bellocchi Dove in collaborazione con le agenzie private di sicurezza sono stati identificati sette soggetti Sia italiani che stranieri che avevano trafugato diversi beni Tra cui capi di abbigliamento, utensili e materiale da bricolage In particolare alcuni di loro avevano operato all'interno del Brico Center Nell'ultimo periodo Brico Center è stato soggetto a un numero abbastanza considerevole di furti Gli oggetti interessati a questi furti sono principalmente prodotti dei reparti utensilierie Piuttosto che elettricità, attrezzi per l'utilizzo qualunque Ma anche prodotti più costosi come ad esempio trapani avvitatori e dispositivi per l'utilizzo del bricolage Brico Center è molto ferma nella posizione di voler denunciare tutti quelli che vengono colti in fragranza di reato Proprio perché questo va a sottolineare come per noi la cura, la tutela del patrimonio sia un elemento fondamentale Grazie anche a una coordinazione e grazie all'impegno delle forze dell'ordine Siamo riusciti anche a portare a segno diversi fermi dove i soggetti che appunto hanno perpetrato il furto Sono stati identificati grazie al pronto intervento delle forze di polizia e di carabinieri Alle quali va il mio sentito grazie anche a nome dell'azienda Tutti e 12 sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato Bene, adesso andiamo a San Costanzo dove la comparsa di una madonnina, di una statua della Madonna Al ciglio di una strada su un ceppo di un legno di un albero tagliato Ad è stato forse l'invidia, forse qualche vecchia ruggine con colui che l'aveva messa lì da parte di qualcuno Ed è scattato una visita da parte della provincia che ha così, adesso sentite dalla voce del diretto interessato Quello che è successo Leonardo Vitali, pensionato San Costanzese Doc, una vita sulle strade a guidare Tir in mezzo a Europa Sacrificando anche gli affetti familiari ma che grazie all'apporto esenziale della moglie ha dato buoni frutti E ora da nonno nella sua casa fuori paese e con uno splendido affaccio sul mare si gode il meritato riposo Ma Leonardo non è uno da stare con le mani in mano ed allora nel pezzetto di terra attaccato a casa sua Coltiva la terra, fa l'orto e soprattutto da buon frontista tiene pulito il fosso e si dà da fare da buon cittadino Ma recentemente è incappato in una spiacevole disavventura che gli ha lasciato un lamaro in bocca Vitale, raccontiamo questa vicenda, tu hai tagliato un albero Era secco, era secco, prima di tutto ho chiamato la provincia L'ho fatto vedere due anni e mezzo fa che quest'albero era secco, c'era una rama molto lunga Che quando tirava il vento dal monte arrivava in mezzo alla strada Il signor Carloni di Mondolfo era responsabile qua della zona ma ha detto tagliala Prima che succeda qualcosa l'ho tagliato Del 2013-2014 quando ho fatto quelle gelate brutte ha spaccato la corteccia di Stalbero Stalbero si è seccato, cadevano le rami sulla strada, ho fatto intervenire i vigili Gli hanno guardato, ho rami secchi, ha detto guarda fai permesso e lo togliamo Però è venuto fuori un problema, qualche signore o una signora o un signore di San Costanto Non so chi è, è impossibile saperlo perché nessuno fa i nomi Ha fatto un reclamo in provincia Purtroppo un ente quando arriva il reclamo è costretto a venire a fare sopra il luogo Ha visto l'albero tagliato, la maldonina lì sopra, sul territorio della provincia Ha detto guarda fai una cosa, togli tutto prima che succeda un casino Dopo magari c'è qualcosa che non è regolare per andare a cercare i problemi Io da signore ho tolto tutto Gli ho detto la posso mettere sul mio territorio? Ha detto sì Ma Vitali non è uno da farsi il fegato amaro Di cose in giro per l'Europa ne ha viste fin troppe Ed allora corre subito ai ripari La sua madonnina ora è nel suo terreno con tanti fiocchi rosa vicino Ho messo su questa madonnina perché mi doveva nascere il primo nipote Era una femmina e mi piaceva metterla Io so credente, metto su questa madonnina, aiuto pure la mia figlia a fare questa bambina senza nessun problema Difatti così è successo, ha fatto questa bambina senza nessun problema, è andato tutto bene E sono contentissimo E mi dispiace se adesso qualcuno l'oggi sta bene, anche sul mio territorio, tutto qua Ebbene adesso rientriamo a Fano perché è un altro tema caldo Che sentiremo ancora per molto è quello del digestore anaerobico In questi giorni si sono tenuti alcuni incontri pubblici L'ultimo ieri da parte della Lega La Lega che alza anche il tiro perché ha presentato un'interrogazione urgente in Comune Noi abbiamo presentato una mozione ufficiale urgente in Consiglio Comunale come Gruppo Lega Perché ci sentiamo di non tradire i cittadini che ci hanno votato In particolar modo a Bellocchi Falcineto che sarà il sito dove vorranno realizzare questo impianto Quindi con questa mozione urgente impegniamo il Sindaco e la Giunta E vedremo che cosa faranno i consiglieri di maggioranza Visto che a parole dicono una cosa e nei fatti ne dicono un'altra Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di bloccare qualsiasi realizzazione di un digestore Di 60-80 mila tonnellate, di questo si parla, a Bellocchi e Falcineto Per diversi motivi, non solo tecnici dal punto di vista ingegneristico Ma dal punto di vista finanziario perché esporrebbe Aset a un investimento molto pericoloso Perché molto è legato agli incentivi che oggi ci sono, domani non si sa se ci saranno Hanno una scadenza e questa scadenza è molto breve Quindi Aset potrebbe anche non arrivare in tempo utile per realizzare e mettere in funzione l'impianto Inoltre il pubblico deve fare il pubblico, il privato deve fare il privato Questo è un rischio imprenditoriale che Aset deve dare servizi efficienza verso i cittadini Quindi fare meno utili perché attualmente sta facendo 6 milioni di euro di utili Addirittura prendendo rifiuti speciali non pericolosi da altre regioni Ma fare servizi efficienti per i cittadini Noi abbiamo fatto anche una proposta in questa mozione Di indicare un sito già urbanisticamente pronto, quindi senza bisogno di variante Dove installare questo digestore, appaltarlo ad un privato E gli sgravi da questo appalto dovrebbero non gravare ma ricadere su economie per i cittadini E per le aziende della nostra città visto che le bollette comunque a nostro avviso sono alte E si possono tecnicamente ridurre con un'operazione di questo genere Ieri sera abbiamo avuto una interessante assemblea a Bellocchi Dove il tema era quello del digestore e della località dove avrebbe dovuto essere fatto Abbiamo riscontrato una interessante partecipazione da parte dei cittadini Non solo di Bellocchi ma anche di Fano E questo ci ha dato molto coraggio perché uno degli obiettivi principali della Lega È quello di essere presente nel territorio e affrontare con una professionalità e competenza Temi che lo richiedono Quello del digestore è un tema che richiede questa competenza Ed infatti noi abbiamo spiegato alle persone presenti Tutte le criticità di questo progetto sia da un punto di vista finanziario Anche da un punto di vista tecnico e anche da un punto di vista umano E di relazione dei cittadini con il comune Ebbene è di pochi giorni fa ma ha già suscitato un grosso tam tam sui media, sui social Anche sulle agenzie di informazione Sto parlando della normativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Per i dispositivi anti-abbandono Anti-abbandono dei bambini piccoli al di sotto dei 4 anni di età Obbligatorio quindi all'interno delle vetture Un servizio approfondito lo ha realizzato Francesco Salvago Sentite Mettere fine alle morti di bambini perché dimenticati inconsapevolmente in auto dai genitori Con questo obiettivo il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli firma il decreto attuativo dell'articolo 172 del nuovo codice della strada Per i piccoli di età inferiore ai 4 anni sarà obbligatoria l'installazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini per auto Un vincolo che dopo la via libera del Consiglio di Stato giunto fine settembre è attivo già dal 7 novembre Il dispositivo di allarme è costituito da uno o più elementi interconnessi la cui funzione di prevenzione dei casi di amnesia dissociativa Si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo Può essere integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini O attraverso una dotazione di base a un accessorio del veicolo Compresi nel fascicolo di omologazione dello stesso Oppure indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo Questo in particolare è una clip che si applica alle cinturine a partire dall'ovetto fino ai seggiolini per i 4 anni Si pigia e si attiva, c'è un allarme sonoro che dice che è attivato Si scarica un'app e poi si collega al telefono Il telefono principale se si allontana dal seggiolino quando è attivato Parte un allarme acustico tipo una sveglia sul cellulare E che poi ci si ricorda che comunque c'è il bimbo in macchina Se non risponde al telefono principale sono collegati altri La possibilità di collegare altri tre numeri, parenti, marito, chi è E quindi qualcuno prima o poi lo riceve E questo è il modello a clip Poi c'era un altro modello che è un tappetino che si mette sulla seduta Lì funziona sentendo il peso Quindi se quello è sempre attivo ogni volta che il bimbo si siede Funziona allo stesso modo Quando ci si allontana partono i messaggi Nel giorno dell'attuazione definitiva dell'obbligo dei dispositivi È scattata la psicosi collettiva Molti dei genitori di figli con meno di 4 anni Sono entrati nel panico a seguito della normativa vigente Chiedendo diverse informazioni sul nuovo dispositivo E poi sull'acquisto dello stesso Sì, sì, le ho prenotate Meglio prenotarli così almeno non corriamo il rischio di non essere in regola Era conoscenza dunque di questa nuova normativa In realtà ne sono venuta a conoscenza proprio il giorno in cui è entrata in vigore Quindi prima non sapevo che sarebbe uscita ma non il set Quindi non ero preparata con l'accessorio Gli automobilisti per evitare multa e decurtazione dei punti della patente Sono obbligati di fatto a un acquisto frettoloso e non ragionato Il che potrebbe portare ad avere un prodotto non adeguato allo scopo Considerando che l'obbligatorietà dei sistemi antiabbandono Sarebbe partita 120 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto tecnico Questo avrebbe permesso a fabbricanti, distributori e famiglie Di adeguarsi alla normativa in modo corretto Comandante cosa prevede la nuova normativa? Si tratta dei sistemi che sono previsti a tutela dei bambini Ed è proprio il sistema quello antiabbandono Perché purtroppo sappiamo bene dalla cronaca che sono successi tanti casi In cui i bambini sono stati abbandonati in macchina Quindi è una norma di alto senso civico Che modifica l'articolo 172 codice della strada Che prevede proprio utilizzo di cinture di sicurezza Nonché sistemi di ritenuta a sicurezza dei bambini Per coloro che non rispettano le normative Quali sono le sanzioni previste? Per quanto riguarda il controllo che verrà fatto da questo comando Noi ci rifacciamo un po' alla missione Quella che è propria del nostro comando Che è, come potete vedere anche alle mie spalle È proprio quella di avere un occhio sempre vigile E come tale essere attenti a tutti i comportamenti che vengono messi in campo In che modo? Con responsabilità, buonsenso e cortesia Per quanto riguarda nello specifico questa nuova normativa All'oggi non ci sono tanti dispositivi in giro nei negozi Non solo I dispositivi che ci sono, la gran parte, non sono omologati Per cui, oltre a questo, proprio di questa mattina È una dichiarazione del Ministero Che vuole anche posticipare l'entrata in vigore delle sanzioni Ci incentreremo nel far rispettare il principio Perché, come ho detto, è di alto senso civico È a tutela dei bambini In caso di allontanamento In cui un genitore, involontariamente Perché su questo siamo tutti d'accordo Involontariamente Se lo dimentichi in macchina Deve essere prontamente avvisato Affinché non succeda il peggio Per cui colgo l'occasione Per invitare tutti i genitori Di bambini di età inferiori a 4 anni Nel frattempo di munirsi di questi dispositivi Noi ovviamente faremo dei controlli Affinché i veicoli che trasportano bambini In questa fascia d'età Ne siano muniti Ma senza iniziare da subito con le sanzioni Bene, ed ora affrontiamo un altro argomento Ancora caldo Ovvero sia il liceo Nolfi Si sono tenuti nella giornata di oggi Una serie di incontri a più livelli Uno dei quali nella mattinata È stato presieduto anche dal sindaco Di Fano Che dovremmo avere al telefono in questo momento Sindaco, buonasera Buonasera, buonasera a tutti Allora, sindaco Che cosa è scatturito da questo incontro? So che c'era lei e anche il suo ossessore Qual è stata la somma di questo incontro? Beh, io direi Intanto è stata una giornata positiva Perché quando si muovono tutte le istituzioni Insieme, anche con le varie responsabilità È sempre un bel segno Nella mattinata Ci sono stati un incontro con la provincia Nel pomeriggio sono incontrati i parlamentari Per reperire le risorse Per la struttura La nuova scuola Beh, intanto La cosa importante stamattina Che ho apprezzato molto È stata anche la presenza Dei rappresentanti dei genitori Così almeno c'è una interpretazione autentica Delle cose che si fanno E di quelle che non si fanno E non si parla per sentito dire E sono partecipi e consapevoli Sia delle difficoltà Sia dei percorsi che si fanno Stamattina Si sono state chieste alcune cose Alcuni impegni precisi alla provincia Che in parte sono già in azione Quindi si è parlato Dell'immediato Del breve E del lungo periodo Nell'immediato Alcuni interventi Che sono già in cantiere Per ridurre La dislocazione Delle classi Per ridurre Almeno un plesso Questo per ridurre Il disagio Poi ci siamo Dati un programma Di verifiche E di pianificazioni Di interventi Straordinari Che nei prossimi giorni Verranno definiti Tant'è che ci siamo dati Anche appuntamento Tra 15 giorni Per fare di nuovo Il punto Della situazione Per interventi straordinari O nella scuola Marcolini Nel piano superiore O negli spazi Ancora non utilizzati Di Palazzo Petrucci Dove oggi c'è L'istituto Olivetti Questo consentirebbe La creazione Di ulteriori Classi E questo ridurrebbe Notevolmente Il disagio Degli studenti E dei ragazzi Poi si è fatto Un ragionamento Per Il lungo periodo Quindi la realizzazione Di una nuova scuola Che ricordo E rimarco Che verrà realizzata Dove è oggi Non in altri posti Perché qualcuno Aveva parlato Anche di questo Quindi abbiamo chiesto Di iniziare subito Con la progettazione Quella vera Perché poi Al di là Delle risorse C'è una fase C'è una fase Quella della progettazione Che non è brevissima Perché una struttura Scolastica Come quella Vediamo Stiamo vedendo noi Come comune Con la realizzazione Della scuola Di Cucurano Che richiede Tempo Quindi Per informare Lo step di avanzamento Di questi accordi Di queste considerazioni Che avete fatto A livello Di più Di più figure Grazie E buon lavoro Noi continuiamo Con il nostro Telegiornale E cambiamo argomento Parliamo di Proloco E di Del Natale Che ormai È quasi alle porte Le Proloco Hanno fatto Una riunione Al vertice Tutte le Proloco Coinvolte Nella provincia E allora Sentiamo Da Da Bartocetti Che cosa Si prospetta Per l'edizione 2019 Del Natale Che non ti aspetti Nei giorni scorsi All'interno Della Biblioteca Comunale Di Sant'Ippolito Si sono riuniti I 50 volontari Delle Proloco Della provincia Per stabilire Le prossime tappe Di promozione In vista Degli appuntamenti Natalizi Del Natale Che non ti aspetti L'evento Coordinato Dal Comitato UMPI Di Pesaro Urbino E promosso In collaborazione Con la Regione Marche E la provincia Vedrà coinvolte Dal 23 novembre 2019 Al 6 gennaio 2020 Ben 18 realtà Ad aggiungersi A quelle già esistenti Delle passate edizioni Quest'anno Saranno le località Di Orciano Mondavio Cagli E Pergola E' stata una bella riunione Dove abbiamo presentato Il nuovo logo Dove abbiamo presentato Tutta la programmazione Che si farà E quindi anche La programmazione Di investimento Sui social A livello nazionale Su tutti i giornali A livello nazionale Abbiamo già delle belle Risposte Perché siamo usciti Grazie Devo dire Al grande lavoro Che sta facendo Anche Omnia Comunicazioni E siamo usciti Su testate giornalistiche Veramente molto importante Parliamo di Plenair Di Dove Di tanti siti Insomma A livello nazionale Tante radio Che ci chiamano Anche a livello nazionale Proprio i giorni scorsi Anche Radio Capitale E' stato un grande lavoro E vedere tante Proloco Che si impegnano Così tanto nel territorio E che muovono Un'economia Così importante Per me è stata Una serata eccezionale E da qui chiaramente Mi sento anche di dire C'è un lavoro Dietro tutto ciò Ci sono i volontari Che stanno lavorando Sia il Comitato Provinciale Che le Proloco Siamo tutti volontari E questo lo ribadisco All'ennesima potenza Perché l'amore La passione Che può dare un volontario Per il proprio borgo Ha fatto sì Di metterci tutti insieme Di togliere i campanili Ma di mettere un campanile unico Sotto il cilindro Che è questa nuova immagine Del Natale Il Natale Che non ti aspetti Scopriremo il cappello E vedremo cosa ci sarà dentro Ci saranno 18 località Quest'anno 18 Sono aumentate Che ci siamo messi insieme Stiamo facendo rete Tante prenotazioni arrivano E questo vuol dire Che è un indice importante Turistico Di questo territorio Ristoranti Alberghi Saranno sicuramente Tutti esauriti Speriamo che Nei prossimi anni Possa entrare A far parte Di questo progetto Anche tutte le associazioni Di categoria Di questo bellissimo territorio Bene questa era una piccola anticipazione Ma già dalla prossima settimana Ci sono in calendario Diverse conferenze stampa Proprio sul Natale Per svelare un po' I programmi E andiamo ad Ancona Dove c'è stato un convegno Importante Sul ruolo della cultura Come motore economico Delle realtà territoriali Questo convegno è stato promosso Da Confartigianato Imprese Nelle Marche sono 7167 Le attività collegate alla cultura Spaziano dalle imprese creative E le più specificamente culturali Comprese quelle connesse Al patrimonio storico artistico E alle arti Queste imprese generano alla regione Un valore aggiunto Di 2249 milioni di euro Con 41.900 addetti Il ruolo della cultura È stato il fattore analitico Alla base del convegno Organizzato da Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino Svolto all'interno Della loggia dei mercanti Di Ancona Dove ha preso parte Un dibattito costruttivo Sul ruolo della cultura Per le economie del territorio Contaminazione Per trovare progetti di sviluppo Per la nostra economia Mettendo in sinergia i territori Mettendo in sinergia Le istituzioni come le università Che fanno cultura E aiutano le piccole imprese A uno sviluppo Che in questo momento È più che necessario Al convegno ha preso parte Anche una delegazione Di Confartigianato Imprese Di Padova A dimostrazione Che l'artigianato legato Alla cultura Ha un ruolo strategico E dove il maggiore contributo È rappresentato Delle attività più tipiche Del made in Italy Padova subito dopo Venezia Con cui non si può assolutamente competere E Verona È la terza città del Veneto Per flussi turistici Su questo stanno nascendo Tantissime imprese Soprattutto di giovani Ed è quello che noi andiamo A finanziare Anche attraverso lo spin-off Oppure piccoli incubatori Di impresa E sono i giovani Che in questo momento Ci stanno dando Il massimo della soddisfazione Importante contributo Al convegno È stata la presenza Di due rettori Delle università Politecnica delle Marche Di Padova Il quale hanno identificato Il potenziamento Del ruolo della cultura Avvicinando sempre più Il mondo accademico Formando le nuove generazioni Ad un livello di cultura Sempre più elevato E utile nell'ambito lavorativo Il tema è fondamentale Ragionando Uno Sul fatto che dobbiamo Creare le condizioni Affinché Non solo trovino Un'adeguata retribuzione Ma anche Un'adeguata posizione Poi sviluppare Degli strumenti Che in parte Già ci sono Pensa al rapporto Che hanno tutte Diciamo le università Marchigiane Con la regione Marche Su delle borse Di dottorato Come quelle Eureka Che vanno proprio Nella direzione Di una sempre più Forte integrazione E collaborazione Con il mondo Delle imprese Grazie e complimenti Al magnifico rettore Dell'università Politecnica Delle Marche Gregori E l'unico prossimo 11 novembre Nel centro diabetologico Di Fano Dell'ospedale Santa Croce Si trarà una giornata Dove Una mattinata Dove si potranno effettuare Gratuitamente Degli screening Proprio indirizzati Sul diabete Sentiamo i particolari Di questa iniziativa Nel servizio La giornata del diabete Viene celebrata In tutto il mondo Il 14 novembre Di ogni anno Ed è stata istituita Nel 1991 Dall'International Diabetes Federation E dall'Organizzazione Mondiale Della Sanità Il suo scopo È quello di sensibilizzare E informare L'opinione pubblica Sul diabete Una patologia Grave e diffusa Che può essere Prevenuta E curata Grazie all'adozione Di un corretto Stile di vita O con semplici Interventi Farmacologici Ogni anno La giornata Ha un tema Quello di quest'anno È la famiglia E dove in questo Le associazioni Di pazienti Svolgono Un imprescindibile Ruolo di cerniera Tra chi è malato E le strutture sanitarie Sì Il ruolo dell'associazione È quello di Informare La cittadinanza Quindi la popolazione E di tutelare I diritti Delle persone Con diabete Recentemente Avete presentato Anche un manifesto Importante Perché e che cosa Contiene Sì Questo manifesto Che lo abbiamo fatto A livello regionale Di tutte le associazioni Di tutelare Di diabetici Vuole rappresentare Quelli che sono I bisogni E le criticità Del sistema Diabetologico Regionale Nelle Marche Sono circa 70.000 I diabetici Censiti E si stima Che almeno 15.000 Persone Lo siano Però senza Sapere di esserlo Ecco perché Si organizzano Ogni anno Open Day Diabetologici Nei centri specializzati Dove si può effettuare Uno screening Gratuito Come avverrà a Fano Il lunedì prossimo 11 novembre Sono sempre più importanti Questi programmi Di screening Per riconoscere Anche i casi Misconosciuti Che in Italia Sembrerebbero essere Circa un milione Le persone diabetiche Che non sanno Di avere la malattia Sì Noi a Fano Abbiamo organizzato Per lunedì mattina Dalle 9 alle 3 L'accesso è libero Alla popolazione Chi vuole Verrà sottoposto Sia a un test Per valutare Il profilo di rischio E il peso La pressione La circonferenza vita La valutazione Dell'indice di massa corporea E poi Avrà dei consigli Per la prevenzione Che è veramente L'arma vincente Per questa lotta La patologia diabetica Quest'anno Il tema è duplice Abbiamo sia La famiglia Sia la parodontite Perché? Perché la famiglia Il diabeto È una malattia sistemica Che ricopre Non soltanto la persona Nei vari organi apparati Ma coinvolge Ovviamente anche la famiglia Che in prima persona Si deve interessare Per il paziente Appunto Il familiare affetto Mentre il tema Appunto Della parodontite È una complicanza Nuova in un certo senso Non è la classica Complicanze croniche Dei piedi O degli occhi O del cuore O dei reni È una patologia Che può colpire Appunto Il cavo orale Che può portare Alla perdita Appunto Dei denti Perché mina La salute dell'osso A livello gengivale Bene E rimaniamo In tema salute Perché si è costituita Da poco La delegazione Provinciale Dell'associazione italiana Donne medico Un'associazione Che promuove La medicina Di genere Attraverso incontri E conferenze La prima Della delegazione Provinciale Che tra l'altro Ha sede A Fano Si terrà Al Teatro della Fortuna Nella giornata Di sabato Si è costituita Una nuova sezione A Fano Di un'associazione A livello nazionale Importantissima Sì Che è l'associazione Donne medico italiana Allora A Fano L'abbiamo aperta Fondata Quest'anno Però in realtà L'associazione Donne medico italiana Ha una storia Di cento anni E' stata fondata Nel 1921 E fa parte Dell'associazione Internazionale Mondiale Di donne medico Perché avete voluto Questa fondazione Anche di una sezione Appesa Sì Perché c'è La necessità Secondo la nostra opinione Di Come Diciamo Ci consiglia Anche L'OMS Di puntare molto Sulla medicina Di genere Cosa intendo Per medicina Di genere Cioè Intendo che Ad esempio Alcune patologie Abbastanza comuni Tipo l'infarto Colpisce sia La donna Che l'uomo Ma Nella donna Oltre alla specificità Individuale Assume Degli aspetti Diversi Diversi Che dall'uomo Quindi Occorre Una Maggior approfondimento Sul percorso Diagnostico E terapeutico Per Fare Una terapia Più adeguata E Proprio per promuovere A livello scientifico La La medicina Di genere Cioè La medicina Con un'ottica Particolare Femminile Ecco Per fare questo Avete anche Sentito L'esigenza Di fare Diversi eventi Anche divulgativi Uno Tra l'altro Tra pochissimi giorni Sabato 9 novembre Nella splendida Cornice Del Teatro Della Fortuna Del nostro teatro Facciamo Un incontro Un evento Sulla salute Degli adolescenti Proprio Per Perché Abbiamo Per fortuna Una grossa sensibilità Da parte Dei dirigenti Delle scuole Dai dirigenti Della Del provveditorato Degli studi Che ci inviano Gli studenti Molti studenti Proprio per parlare Insieme a noi Sulla salute Degli adolescenti Oltretutto Li rendiamo Anche partecipi Perché ci sarà La parola Anche agli adolescenti Bene Questo è quello Che verrà sabato Domenica invece Domenica pomeriggio Alle 16 e 30 Nella splendida Cornice Della chiesa restaurata Del gonfalone La fondazione 7 novembre Onlus In occasione Del suo Quindicesimo Compleanno Ha radunato Tutte le Associazioni Fanesi Che hanno Ricevuto L'appoggio E sostegno Attraverso I contributi Di questa Onlus Sentiamo Di che cosa Si tratta Lo scopo Della fondazione È stato Sin dall'inizio Quello In realtà Di finanziare Delle Onlus Nel territorio Principalmente Di Fano Che è la mia Città di origine Nel territorio Piemontese Abbiamo finanziato Tanti progetti In queste due zone Decidendo Di farlo Micro progetti Gestiti Da persone Che conoscevamo Siamo molto Soddisfatto Di come È stata gestita La fondazione Adesso abbiamo Un convegno A 15 anni Dalla sua nascita Perché è nata Nel 2004 Per decidere Anche cosa fare Da qui in avanti E quindi abbiamo Voluto parlare Con tutte le associazioni Che abbiamo Finanziato In questo periodo La fondazione Ha beneficiato Il territorio Di oltre 750 mila euro 757 mila euro Per 58 progetti Sono stati Erogati 64 mila euro In media All'anno E finanziati 5 progetti In media All'anno Ben 27 Associazioni Cooperative Sociali Enti Del terzo Settore In generale Per almeno Una volta Hanno beneficiato Dei contributi E dei finanziamenti Della fondazione Ragazzi Famiglie Persone Che hanno avuto Difficoltà Hanno avuto Un giovamento Di base Molto importante Sicuramente La logica È proprio questa Noi da tanti anni Vicino ad un welfare Pubblico Che è quello Che attinge La fiscalità generale Che ha sempre Meno risorse Notiamo Il grande interesse Di un welfare Che chiamiamo Comunitario E cioè Di privati Di aziende Del privato sociale Del mondo Del terzo settore In generale Che mette a disposizione E mette in circolarità Per fini di welfare Lo chiamiamo Non a caso Secondo welfare Abbiamo organizzato Per domenica Dieci Alle sedici E trenta Presso la chiesa Del gonfalone Un convegno Dal titolo Le buone pratiche Del welfare Comunitario L'esperienza Del rione sanità E delle catacombe Di San Gennaro A Napoli Sarà il suo Presidente A parlarcene Il dottor Mario Cappella Che verrà Appositamente È un esempio Di buone pratiche Che nascono Dalla società civile Di coloro Che come dire Si prendono cura Della collettività In cui Vivono Bene Lunedì 11 novembre Alle ore 21 In diretta Sul canale 17 Di Fano TV Torna Naturalmente Primo cittadino L'appuntamento Con i sindaci Del territorio Ospite Negli studi Insieme a Simona Zonghetti Il sindaco Di Fano Massimo Seri Potete intervenire Come sempre In diretta Tramite il numero Di telefono Fisso Lo 0721 861433 Oppure Potete inviare Quesiti E domande Al sindaco Al sindaco Di Fano Attraverso SMS O Whatsapp Con il numero Di cellulare 33849 68250 Bene Siamo arrivati In fondo a questa Edizione del nostro Telegiornale Ma come sempre Vi ricordo anche Che cosa accadrà Dopo di noi L'ultima puntata Di che tempo farà Con le previsioni Meteo Con il sorriso Naturalmente Che ci hanno Accompagnato Fino ad ora E poi uno speciale Sul ruolo Della cultura Per le economie Territoriali Appunto di cui Abbiamo parlato Prima Organizzato da Confartigianato Ad Ancona Grazie Per essere stati In nostra compagnia Questo è il numero Di telefono Che ormai Dovreste conoscere Per le vostre Segnalazioni O per entrare In contatto Con la nostra Redazione Non mi rimane Altro che augurarvi Buona serata E buon proseguimento Con le nostre Trasmissioni Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti